Presidente Fabio Del Prete, una giornata organizzata nei miei particolari con il sossegno del Vescovo, del primo cittadino, l'applauso inaugurale dei tifosi, benagurante, per una stagione positiva. Si perde al cospetto di una signora squadra, applausi per i vincitori e da martedì sotto gli allenamenti perché l'obiettivo salvezza deve essere alla corda di Granata. Buonasera a tutti, è stata una bella serata, una bella partita, abbiamo fatto una bella manifestazione, abbiamo avuto la possibilità di avere una benedizione dal Vescovo con i preti della nostra diocesi, l'amministrazione comunale, il sindaco Giovanni Schiappa, le autorità, un po' di tutto. È stata una bella giornata, una bella partita, siamo stati sfortunati, abbiamo retto un buon primo tempo contro una signora squadra che parte chiaramente per la vittoria al campionato. Siamo contenti, anche se abbiamo perso, siamo molto contenti. Da martedì si riparte e ci sono tutti i presupposti per una salvezza tranquilla. Grazie mille presenti oggi, vi ho scattato delle foto, vi ho fatto delle riprese di immagini, una tribuna gremita, queste sono le immagini che vogliamo lanciare? Sì, questo è il nostro progetto di portare le famiglie con i bambini, le nostre moglie, le fidanzate, tutti quanti allo stadio, fare festa con la squadra avversaria e trascorrere tutti quanti insieme. Un bel fine settimana di serenità, tranquillità, di socializzazione. Poi il campo darà ragione a chi merita di più o a chi è più fortunato in questo caso. Grazie a lei.